Musica Bene ragazzi, ed eccoci qui con il Pink Skips di Mattia Destro If E dopo quest'intro così... Benvenuti a questo Pink Skips e vi ricordo che se volete partecipare al prossimo dovete mettere un bel mi piace alla pagina Facebook Perché faremo lì l'estrazione del prossimo Pink Skips Oggi in palio, come ho detto, c'è Mattia Destro Sif, no If Mi correggo E giochiamo contro Alessio Ronchi Che è stato il fortunato vincitore di questa settimana Andiamo a vedere la sua rosa Ah, c'è la Premier League La Premier League con quei baggati da quei parti E un Angolan e Mertens sulle fasce perché ha fatto l'angoletto belga Cioè, ha fatto proprio più di un angoletto Diciamo, camera e cucina belga E niente, speriamo di vince perché... Perché sì, perché dobbiamo continuare la serie positiva Siamo con due vittorie consecutive Dove aver perso il primo Pink Skips è finora unico Unico, ripeto, unico perso Quindi, fa una bella figura Oh, perché non corre? Non corrono Porca puttana Non mi corrono i cazzo di giocatori Catroia Cioè, regà, i suoi danno al doppio della velocità Una cosa incredibile Forse perché lui è osta Che cazzo ne so Qua Dai, che cazzo Oddio Destro Oddio Ma dai Ma che culo Ma che cazzo fate Rincoglioniti oggi Una squadra di rincoglioniti Oh, Radu Pecci rari Guarda per destro Guarda, guarda che parte Dai, prima però No, 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 no Falla regalata proprio Via sta palla Ecco Mamma mia, regà Sto sculato come le merdi No Oddio Madonna Eh, vabbè Ma vaffanculo proprio Vabbè Ma spostato Cioè, se vuoi fischia un pallo Fallo, eh Sì Quest'altro continuano avanti Dopo il passaggio Vabbè, su Dai, su Se lo sai capito Devo perdere sta partita Vabbè Ciao, papà Ma più a palla Dai, ballo te Fammi, fammi un piacere Su Niente, eh Ma vaffancula Samoa Eh, pure il telefono Ci si mette Tanto Guarda se qualcuno Risponde a sto cazzo Di telefono, eh Tu, 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 tu Fino a primo tempo Guarda se mi madre Che devi urlare il telefono Con mi nonna Ma a me pare Una cosa normale Eh, dai, cazzo Dai Viviamo sta cazzo Di partita Su Dai un po' Dai così Dai, destro Tutti io destro Destro Mamma mia Mattia Mattia Dai, così Oddio, mamma No Ci parli Ma, ma che cazzo Sta succedendo Noo All'ottesimo Parodelli Che culo Comunque La partita è finita Sul 3 a 2 Un culo epico Lo ammetto Ho scurato veramente tanto In questo episodio Destro rimane da noi La partita finisce 3 a 2 E ci vediamo Alla prossima Pagina Facebook Bella Ah, comunque Per chi volesse Sto pure su Instagram Sotto ci sta il link Bella